Allora, se i lavori riprendono i consiglieri dovrebbero riprendere posto, non continuare a parlare come se niente fosse. Allora, riprendiamo i lavori e dico che agli effetti della verbalizzazione della registrazione, con l'intervento della dottoressa Aguzzi, finiscono formalmente le comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale che hanno avuto diversi passaggi, diversi momenti, quindi si chiude ufficialmente quella fase. Allora, ora ritorniamo alla pratica iscritta, quindi alle pratiche ordinarie, alla pratica iscritta al punto 20 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto affidamento della discussione coattiva delle entrate comunali al soggetto proposto alla discussione nazionale, cioè agenzia delle entrate, riscossione. Presenta ed illustra la pratica il dottor Drabella a lei. Grazie signor Presidente. Allora, questa proposta di deliberazione fa seguito ad una norma del 2016, il decreto legge 193, che ha decretato lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia. Infatti, il decreto legge 193, 2016, stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono, diciamo, sciolte e che le funzioni esercitate dalle stesse vengono esercitate dal nuovo soggetto che è un ente pubblico economico denominato agenzia delle entrate e riscossione e che subentra ad Equitalia a titolo, diciamo, universale, quindi sia nella riscossione, diciamo, ordinaria che nella riscossione coattiva. Quindi, diciamo, con la costituzione di questo nuovo soggetto giuridico, quindi un ente pubblico economico, diciamo, che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi, passivi e anche processuale del gruppo Equitalia, ha la possibilità di effettuare la riscossione coattiva tramite ruolo. I comuni, la norma prosegue, che i comuni hanno la facoltà a decorrere dal 1 luglio 2017, di poter affidare a questo nuovo soggetto le attività di riscossione sia spontanea che coattiva sia delle entrate tributarie che delle entrate di natura patrimoniale. Le entrate tributarie, appunto, che parliamo di imposte e tasse, delle entrate di natura patrimoniale, per esempio, parliamo di rette di riscossioni, sanzioni del codice della strada e così via. Con questa proposta, siccome l'ente è già strutturato per poter gestire autonomamente la riscossione spontanea, perché dal 2013, diciamo, la tassa rifiuti, in precedenza anche l'ICI e poi l'IMU, il Comune gestisce, appunto, direttamente la riscossione spontanea, tuttavia non è al momento strutturato per poter gestire in autonomia oppure per poter dare in appalto la riscossione coattiva. Quindi, diciamo, nell'emore della riorganizzazione normativa, perché, come si diceva anche in Commissione dal 2011, che le norme prevedono la riforma della riscossione, ma tuttavia di semestre in semestre c'è stato da ormai sei anni, appunto, un rinvio di queste norme. Quindi, in attesa della ridefinizione normativa, quindi riorganizzazione da parte del legislatore, resta anche difficile effettuare una gara di evidenza pubblica. Per quello che riguarda, invece, la possibilità di gestire in autonomia, la cosa è abbastanza complessa, sia per mancanza di professionalità specifiche, per quello che riguardano le fasi dell'esecuzione. Infatti, per esempio, nel Comune di Iesi non c'è la figura dell'ufficiale della riscossione. Inoltre, queste figure professionali particolari devono sostenere un esame presso il Ministero dell'Economia e Finanze, ma questi esami sono da oltre vent'anni che non si tengono. Ecco, quindi, in attesa di poter definire eventualmente modalità di riscossione coattiva diverse, non è possibile interrompere, diciamo, la riscossione coattiva, per cui, in questo momento, l'unica possibilità per garantire una continuità è aderire al nuovo soggetto che prende il posto di Equitalia e che, appunto, è un ente pubblico economico coordinato, gestito e governato dal Ministero dell'Economia e Finanze e quindi, diciamo, con questa pratica si propone di far gestire la riscossione coattiva mantenendo in capo all'ente, invece, quella che è la riscossione spontanea. Ecco, se ci sono poi richieste e dichiarimenti, sono a disposizione. Grazie, Dottor Delabella. Non le chiedo le differenze con Equitalia perché forse è solo lessicale. non ci sono prenotazioni quindi nessun intervento chiudo la fase, quindi, della discussione apro quella delle dichiarazioni di voto eventuali non ci sono prenotazioni quindi chiudo anche questa fase metto in votazione quindi la pratica iscritta al punto 20 all'ordine del giorno odierno è quella che ha per oggetto affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate riscossione votazione aperta prego votare Comunico l'esito della votazione i consiglieri presenti sono 22 21 sono i voti favorevoli nessun contrario un astenuto il consiglio comunale approva si è astenuta la consigliera Lancioni mettiamo ora in votazione la immediata esecutività della pratica quindi nuova votazione votazione aperta Comunico l'esito della votazione i consiglieri presenti sono 22 i voti favorevoli sono 21 nessun contrario un astenuto il consiglio comunale approva anche l'immediata esecutività si è astenuta la consigliera Lancioni passiamo ora a esaminare la pratica iscritta al punto 21 all'ordine del giorno è quella che ha per oggetto revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 175 2016 e successive modifiche e integrazioni presenta ed illustra la pratica il dottor Della Bella anticipo che c'è un emendamento proposto poi vi ve lo illustrerò cioè illustrerà il proponente prego dottor Della Bella lei grazie signor presidente allora questa proposta di deliberazione riguarda un adempimento che è stato introdotto dal testo unico sulle società partecipate approvato con decreto legislativo 175 del 2016 che è in vigore dal settembre dello scorso anno e che prevede questa scadenza tra le altre cose è stata prorogata per ben due volte c'è stato un decreto correttivo al testo unico sulle società partecipate che è stato approvato a giugno di quest'anno e prevede in ogni caso che entro il 30 settembre le pubbliche amministrazioni effettuano una revisione straordinaria delle società di capitali sia dirette che indirette per fare in modo che nel caso ci sia la necessità queste vengano razionalizzate quindi possono essere cedute messe in liquidazione oppure possono essere previsti degli interventi di razionalizzazione dei costi di gestione possiamo dire che allo stato attuale il comune di Iesi detiene direttamente 12 partecipazioni tra cui c'è Aerdorica l'Agenzia per il risparmio energetico Campo Boario CEMIM Interporto Marche l'Istituto Marchigiano di Enogastronomia Iesi Servizi Meccano Multiservizi Progetto Iesi la Società Agricola Arca Felice e Sogenus di queste ci sono alcune di queste partecipazioni dirette hanno a loro volta delle società partecipate quindi delle partecipate indirette tuttavia la norma prevede che per poter razionalizzare anche le partecipate indirette è necessario avere il controllo sulle società dirette cioè mi spiego meglio se noi possediamo una società al 100% faccio un esempio Iesi Servizi e questa possiede un'altra società a nostra volta noi possiamo dare delle direttive per poter razionalizzare la società indiretta viceversa se noi possediamo il 6% di multiservizi e questa possiede una serie di partecipazioni noi non avendo la maggioranza non potremmo dare delle direttive per razionalizzare anche le indirette in quanto non abbiamo il controllo per cui la società diciamo non potrebbe seguire le direttive di tutti gli enti che non la controllano quindi ecco questa delibera questa proposta di deliberazione tiene conto esclusivamente delle partecipazioni dirette cosa prevede il testo unico delle società partecipate prevede una serie di verifiche alcune verifiche di tipo oggettivo e alcune verifiche invece di tipo come dire di tipo qualitativo di merito le verifiche di tipo del merito queste sono delle scelte che può fare il consiglio comunale quindi deve verificare se l'oggetto sociale sono diciamo rientra tra le attività istituzionali del comune di Iesi e queste valutazioni chiaramente sono molto soggettive faccio un esempio una società come Interporto Interporto Marche siccome è situata tutta all'interno del territorio comunale per il comune di Iesi può essere diciamo strategica possedere la partecipazione viceversa per un comune della Vallesina che magari ha una partecipazione limitata e quindi non ha il controllo e non ha neanche come dire interesse sul territorio potrebbe essere considerata dal consiglio comunale meno strategica quindi diciamo che la strategicità della partecipazione di una stessa società per un comune può essere rilevante per un altro comune può non esserlo quindi diciamo è tutto da questo punto di vista una scelta nel merito dal punto di vista invece oggettivo il testo unico sulle società partecipate prevede dei parametri ben precisi tra questi tra questi ci sono per esempio società che non rientrano il cui oggetto sociale non rientrano in categorie per esempio di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali oppure che diciamo non sono attività di natura strumentale o ancora partecipazioni societarie che diciamo non hanno dipendenti oppure che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti o ancora partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate faccio un esempio che è stato riportato anche in questa proposta di deliberazione per esempio Cemim e Interporto sono due società che entrambe hanno lo stesso oggetto sociale cioè la gestione dell'area Interporto infatti una delle due è in liquidazione partecipazione ancora in società che nel triennio 2014-2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro o ancora società che non svolgono un servizio di interesse generale che abbiano avuto una perdita di esercizio in almeno tre anni in almeno quattro dei cinque esercizi precedenti società ancora che hanno necessità di contenere i costi di funzionamento oppure diciamo società che debbono essere aggregate in quanto anche se hanno oggetto attività consentite dal testo unico delle società partecipate su questo ecco una cosa importante perché la Corte dei Conti con una propria deliberazione ha dettato delle linee guida quindi per la prima volta c'è un modello di riferimento in particolare uno schema che prevede diverse schede e che poi lo schema legato a questa proposta di deliberazione e che poi appunto la magistratura contabile andrà a verificare se tutto quello che è stato è stato deliberato dal Consiglio Comunale rispetta o meno la normativa entro trenta giorni poi dall'approvazione diciamo questo questo processo di revisione straordinario deve essere inserito in un portale nel portale partecipazioni che è stato costituito nel sito del Ministero del Tesoro e che appunto per la prima volta con un solo atto c'è l'esame sia diciamo del Ministero del Tesoro dell'economia sia da parte della Corte dei Conti quindi a differenza di quello che è accaduto anche negli anni passati per un singolo oggetto in questo caso le società partecipate il Comune non deve compilare più database più dati perché sarebbe una duplicazione di adempimenti per la prima volta dopo diciamo tante richieste da parte degli enti locali con un unico adempimento si soddisfano più diciamo più verifiche per venire al dettaglio diciamo proprio nel merito di quello che è la diciamo la deliberazione di queste 12 società prese in considerazione possiamo dire allora che alcune società sono già in liquidazione quindi già negli anni passati in particolare l'ultimo diciamo intervento è stato effettuato a marzo 2015 quando l'allora legge di stabilità prevedeva una revisione delle società partecipate diciamo il Comune di IES è stato questo è possibile dirlo precursore quindi ha già anticipato tutte le norme relative alla razionalizzazione delle società partecipate noi abbiamo diverse società in liquidazione che sono già state poste in liquidazione e alcune società come diciamo l'Agenzia per il risparmio energetico che addirittura ha già concluso la sua fase di liquidazione perché ecco una cosa che non ho detto è che la normativa prevede un'analisi delle società partecipate riferiti però alla data del 23 settembre 2016 data di entrata in vigore del testo unico sulla società partecipata quindi noi facciamo una fotografia al 23 diciamo di un anno fa nella realtà l'Agenzia per il risparmio energetico per esempio ha concluso la liquidazione e proprio questi giorni ha chiesto di poter versare l'attivo patrimoniale diciamo il bilancio di liquidazione finale è stato approvato il 31 luglio e sta versando in questi giorni ai soci l'attivo patrimoniale rimasto di queste società vado abbastanza velocemente perché poi i dettagli sono nelle schede allegate di queste società allora noi abbiamo sei società che per le quali si propone il mantenimento senza interventi di razionalizzazione tra queste sono Interporto Marche partecipazione diretta in quanto è diciamo strategica in quanto è situata tutta all'interno del territorio comunale l'istituto marchigiano di enogastronomia che in questo caso è una partecipazione diretta del 5% ma è una società di diritto singolare cioè che è stata costituita in base alla legge regionale del 2014 in quanto gestisce il polo enogastronomico regionale se noi dovessimo dismettere questa partecipazione il polo enogastronomico salterebbe quindi non potrebbe più essere gestito abbiamo poi Iesi Servizi società partecipata e controllata al 99% perché l'1% diciamo è posseduta dal comune di Monsano è una società multi utility che gestisce una serie di servizi a rilevanza economica per il comune di Iesi e per il comune di Monsano abbiamo poi la Meccano partecipazione diretta in cui possediamo l'1% e che promuove lo sviluppo tecnologico in campo meccanico diciamo questo è un modo per poter gestire indirettamente lo sviluppo economico delle micro e delle piccole imprese del territorio diciamo a costo zero senza costi abbiamo poi la partecipazione in molti servizi che abbiamo il 6,25% società in house alla quale abbiamo affidato direttamente il servizio idrico integrato e poi abbiamo Sogenus anche in questo caso partecipazione diretta della quale possediamo l'1,69% alla quale abbiamo affidato in house il servizio riguardante lo smaltimento dei rifiuti quindi la discarica che anche se non diciamo è situata nel territorio comunale però è una società di riferimento per noi la società che si propone di razionalizzare quindi di dismettere è a Erdorica però su questo ci sarà un emendamento e altre società che invece sono già in liquidazione abbiamo l'agenzia per il risparmio energetico che è stata posta in liquidazione lo stato attuale la procedura liquidatoria è in fase conclusiva in quanto si sta già procedendo al piano di riparto dell'attivo tra i soci abbiamo poi la campo voario in liquidazione in questo caso si prevede una cessazione dell'attività solo nel momento in cui è definita la controversia tributaria con l'agenzia delle entrate abbiamo poi CEMIM società consortile in liquidazione questa è una società che appunto è stata prima dichiarata fallita poste liquidazione il 15 novembre del 1993 poi il 19 settembre 2009 la corte d'appello d'Ancona ha revocato il fallimento al momento la gestione dell'interporto Marche è effettuata da interporto appunto per cui è una società che è un oggetto sociale già svolto da altri soggetti da altre società e in questo caso si conferma la liquidazione quindi si attende la cessazione e il riparto dell'attivo abbiamo poi il progetto Iesi in liquidazione in questo caso l'oggetto sociale è stato raggiunto quindi il patrimonio diciamo il debito è stato estinto e il patrimonio l'attivo patrimoniale dovrà essere retrocesso al comune di Iesi e si stima che la conclusione della procedura possa venire entro i prossimi sei mesi abbiamo poi la società agricola Arca Felice che è stata posta in liquidazione nel 2015 la procedura liquidatoria è in corso di sta concludendo perché si stanno si stanno facendo gli accordi gli ultimi accordi con i creditori e si stima che la diciamo la cessazione della diciamo della società possa venire entro il 31 dicembre di quest'anno e per le altre società per le altre società appunto si prevede si prevede il il mantenimento ecco se ci sono poi ulteriore richieste di approfondimento sono a disposizione grazie dottor della bella allora prima di iniziare la discussione chiesto la parola il sindaco così illustra l'emendamento che è stato presentato così abbiamo il quadro completo della pratica della situazione il sindaco grazie presidente vorrei spiegare perché una proposta di deliberazione che conteneva anche la cessione di Erdorica adesso viene emendata dal sottoscritto le motivazioni di tipo politico una doverosa premessa la partecipazione come sapete in Erdorica non è assolutamente significativa è lo zero virgola qualche cosa e rispetto a quello che ha detto e riferito il dottor della bella era in coerenza con quella che la normativa andava sicuramente ceduta anche perché ho partecipato più volte alle assemblee di Erdorica che non ha SPA e logicamente con lo zero virgola zero e ulteriori virgole si fa una presenza di tipo politico si dice quello che sarebbero i desiderata del territorio che si rappresenta ma si incide veramente poco poi in realtà in sede di riunione di maggioranza che per prassi viene tenuta prima del consiglio comunale è emerso che una parte della maggioranza aveva proprio come interesse politico che il comune rimanesse nella compagine di Erdorica ho capito che c'era questo interesse come è giusto che sia ci siamo adeguati e abbiamo presentato e ho presentato questo emendamento solo una velocissima riflessione su quella che attualmente sono le partecipate del comune e il lavoro che è stato fatto negli anni praticamente sono state di fatto eliminate tutte quelle o sono in fase di chiusura e scioglimento tutte quelle società che hanno portato perdite molto significative e credo che su queste società su ognuna di queste comprese ovviamente la progetto Iesi dove ho avuto delle responsabilità dirette sia opportuno se non necessario analizzare qual è stato l'andamento quello che hanno significato e che cosa hanno portato in termini non solo di numeri ma di ricadute sul territorio e sulla comunità queste società dunque chiedo alla Presidente Garofoli di mettere a calendario se è possibile ovviamente valutare a lei la possibile verifica di quello che è stata la gestione di questa società negli anni stavo dicendo che le partecipazioni le problematiche legate alla società le abbiamo già affrontate e credo in buona parte risolte rimangono le partecipazioni non certo significative dal punto di vista di incidenza come soci parlo una su tutte e molti servizi perché abbiamo il 6 e qualche cosa ma essendo per esempio la multiservizi una società di controllo e partecipazione solo pubblica esiste poi quello che è definito il controllo analogo cioè in quella sede grazie alla normativa generale i comuni possono incidere e anche in maniera significativa io ho detto nell'ultima un po' mi riallaccio anche alla questione ATA ho detto anche nell'ultima assemblea e credo che questo sia un problema che interessi tutti perché poi i sindaci passano ma le società rimangono le problematiche rimangono pure quelle ahimè ho detto che il controllo analogo oggi in molti servizi è completamente anacquato e leggendo il ricorso che è stato fatto su due ricorsi io non ho letto uno io tra l'altro vi inviterei a leggere quei ricorsi perché veramente se fosse tutto corretto quello che è stato scritto in quei ricorsi beh io credo una riflessione approfondita andrebbe comunque fatta ma indipendentemente da quello ci sono i giudici che valutano e poi vedremo quanto sono fondati o meno il problema del controllo analogo sulla multiservizi e mi riallaccio poi anche alla questione erdorica però in erdorica non vale il discorso del controllo analogo è un problema vero perché sulle decisioni fondamentali per il territorio i comuni debbono avere la possibilità di incidere cosa che attualmente a mio modo di vedere non avviene assolutamente in multiservizi dunque ecco ho aperto una parentesi che non c'entra nulla con l'emendamento che propongo riassumo però credo che anche di multiservizi delle problematiche legate ai rifiuti anche alla luce di questo ricorso sia opportuno magari risiedersi e riparlarne in maniera approfondita l'emendamento è quello di non cedere la partecipazione di erdorica di mantenerla e di nelle sedi opportune cioè in sede di assemblea far valere quello che è il pensiero di questo territorio circa un'infrastruttura che direi è assolutamente strategica anche se poi la società che l'ha gestita ahimè ha come molte delle società pubbliche che hanno gestito le infrastrutture pubbliche ha una storia che è quella che è ed è addirittura se non sbaglio è stata presentata caso più unico che raro istanza di fallimento di questa società addirittura dal Tribunale d'Ancona dunque per dirvi dalla Procura dunque per dirvi qual è la situazione e qual è stata la gestione di questa società grazie signor Sindaco l'emendamento vi è stato dato mi pare è stato distribuito la copia allora perché ne vedo un'altra copia qua forse pensavo fosse stata scusa riesce a fare pensavo fosse ho visto la copia vediamo anche quella così la leggo intanto l'anticipo vi viene distribuita sostanzialmente prevede l'eliminazione del punto 3 del deliberato che prevede di procedere con la cessione della società aerdorica e quindi la proposta è quella di non cederla la proposta sostanzialmente è motivata da questo considerato che la data odierna la società aerdorica gestisce l'aeroporto di Ancona Falconara che rappresenta un nodo strategico per la mobilità della regione Marche dando per scontato che aerdorica poi non venga dichiarata fallita tenuto conto delle note vicende apparse ultimamente sulla stampa relative alle paventate ipotesi di eliminazione dei voli della tratta Ancona-Roma e ritorno nonché della riduzione di altre rotte che interessano lo scalodorico ritenuto opportuno di concerto con gli altri enti territoriali effettuare un'opera di sensibilizzazione con gli organi istituzionalmente competenti per evitare che l'aeroporto Ancona-Falconara venga depotenziato facendo venire meno un servizio di interesse generale a favore dei cittadini marchigiani e quindi ritenuto necessario mantenere in capo al Comune di Iesi le quote societarie pur poche possedute nella società aerdorica S.P.A. e poi ne consegue i provvedimenti conseguenziali dal punto di vista formale per quanto riguarda la deliberazione da un emendamento del genere si è approvato adesso mi scuso ma avevo visto una copia pensavo che fosse la copia poi per tutti adesso vi verrà distribuita c'è anche il parere chiedo scusa c'era anche il parere favorevole l'ha preso il parere favorevole della della bella eccolo qua chiedo scusa ecco insieme poi se ricusciamo il parere favorevole di irregolarità tecnica del dottor della bella il parere di irregolarità contabile del dottor della bella c'è una cucitrice così questo è l'originale sì sì questo è l'originale chiedo scusa allora consigliere Binci sì grazie presidente beh ci avete spiazzato perché chiaramente fino a lunedì l'anidore si vendeva e adesso diciamo non si vende più quindi intervento mio era per capire cosa è successo da lunedì a oggi diciamo così per fare un'inversione a U diciamo su questa pratica si dice per problemi di maggioranza o diciamo accordo di maggioranza ecco magari se qualcuno la maggioranza ce lo spiega cosa diciamo ha voluto diciamo far con questo emendamento fatto far fare al sindaco quindi magari la capiamo anche meglio noi comunque il valore della quota sono 200 euro questo per avere anche un ecco insomma se prenoti c'è qualcuno che è acceso qualcuno è acceso no non è acceso però non mi no che ha il rosso adesso in funzione perché non prende la prenotazione va bene lo stesso adesso facciamo dunque 32 e il Gregori consigliera Gregori premesso che il mio intervento era per lo stesso motivo del consigliere Binci che mi ha preceduto però di questa cosa sono molto contenta e mi auguro in qualche maniera che l'amministrazione comunale e quindi anche proprio la presenza concreta si possa essere si possa far sentire con un piano comunque ristrutturante di questa situazione voi sapete benissimo che la gestione è stata pressoché fallimentare direi e nonostante tutto ci sono stati diversi provvedimenti che non hanno fatto altro che far infettare questa piaga in sostanza è questo quello che è accaduto purtroppo per noi anche se non siamo il comune di Falconara come era stato detto in commissione magari l'interesse non è così diciamo sentito è comunque una posizione strategica l'economia delle Marche risentirebbe veramente molto e dopo il terremoto che già ha assestato un colpo abbastanza pesante scongiurare la chiusura totale dello scalo di Falconara perché è questo quello che andremo incontro se le linee continuano ad essere queste sarebbe veramente un'agonia per le aziende voi pensate che in qualche modo ancora una volta questa struttura viene tenuta in piedi più che altro dalla volontà di chi ci ha investito tanto negli anni ma anche perché si sa benissimo che comunque è un punto strategico un punto strategico che vale anche per il semplice fatto che una regione come le Marche senza l'aeroporto sarebbe se non altro un punto molto negativo anche proprio a livello di scambi commerciali passeggeri e quant'altro quindi io mi aspetto che da qui si riparte e si faccia anche proprio un piano si presenti in qualche maniera anche se la nostra è una piccola partecipazione anche se la nostra partecipazione vale 100 euro comunque sensibilizzare le persone sull'importanza di questa struttura e su quello che potrebbe essere la chiusura dello scalo è veramente un gesto importante che va compiuto perché molti di noi non sono né a conoscenza della situazione reale di quella che è realmente anche se in regione se ne è parlato tanto e anche nella Lega Nord i consiglieri Zaffiri e altri consiglieri hanno tenuto a precisare che comunque tenteranno in qualche maniera di fare in modo che la regione supplisca a questa situazione ma voi sapete benissimo che con un bilancio che ha dati enormi a livello negativo la regione non si può accollare l'intero debito anche perché sarebbe poi un errore madornale sotto tanti aspetti quindi importante io ringrazio la maggioranza a questo punto che ha deciso di far mantenere che ha convinto anche il sindaco Baci in qualche modo a cambiare rotta perché per me è importante come cittadina di Iesi come consigliere vorrei che fosse cambiata veramente la rotta di questa situazione che è fallimentare che ha dei nomi che non sto adesso ad indicare ha nomi e volti che hanno dato luogo a questa situazione e anche un partito quindi non lo scordiamo non ce lo dimentichiamo non facciamo finta di nulla grazie grazie consigliera Gregori e la consigliera Santarelli grazie presidente no io francamente mi allaccio all'intervento che ha fatto il consigliere Vinci perché abbiamo fatto una commissione ad hoc specifica proprio per parlare di questo punto e il dottor della Bella in modo molto insomma semplice ci ha spiegato questa delibera facendo proprio l'esempio la differenza tra Erdorica e l'Interporto e dicendo beh ha un senso per il Comune di Iesi mantenere la partecipazione dell'Interporto mentre evidentemente ha meno senso mantenere la partecipazione del Comune di Iesi su Erdorica ora è vero che parliamo di una partecipazione assolutamente esigua e per questo francamente vedo difficile il ruolo del Comune di Iesi che ha ipotizzato la consigliera Gregori insomma perché data la partecipazione che detiene non è che potrà decidere le sorti dell'Erdorica ora vorrei sinceramente capire con franchezza qual è la motivazione politica che ha portato a questa decisione diversa dato che anche in Commissione la maggioranza non si è espressa su questo grazie il Sindaco allora c'è scritto un emendamento mi pare di aver chiarito le motivazioni e come si è maturata questa decisione per 200 euro di valore non credo che dobbiamo fare non so se vogliamo fare una commissione anche sul perché cioè voglio dire mi pare che più chiaro che così siamo stati in abbiamo fatto la riunione di maggioranza dopo la commissione consigliare ci siamo confrontati avevamo come amministrazione delle convinzioni abbiamo ragionato assieme alla maggioranza e ci è stato indicato di rivedere quella posizione e l'abbiamo fatto dunque non vedo niente di particolare rispondo solo un attimo alla Gregori per dire che ci mancherebbe altro che non sta a cuore io credo a tutti quell'infrastruttura un conto l'infrastruttura è un conto chi la gestisce a Rimini è successa cosa analoga chi gestiva l'aeroporto di Rimini è fallito l'aeroporto di Rimini è ripartito dunque voglio dire non è che per forza di cose il fatto che Ardorica fallisca poi l'infrastruttura non abbia più uno sviluppo futuro e comunque non svolga più attività grazie signor Sindaco la consigliera Lancioni anch'io sono contenta di questa cosa dell'Aeroporto che ha comunque il piano presentato da De La Bella comunque appare coerente con gli obiettivi di legge solo volevo spendere una parola su Arca Felice perché è stata una struttura magari senza una progettualità senza un progetto del Comune lasciata fallire diciamo così e forse se si sarebbero presi degli opportuni provvedimenti fatto un progetto sopra visto che comunque c'era una fattoria didattica a cui io ho partecipato spesso la situazione era molto l'ambiente era molto bello era molto carino magari sempre non guardare il dio soldo ma anche vedere se la struttura può portare qualcosa di positivo per la città anche perché comunque avrebbe potuto andare a portare qualcosa per le menze ecco eh sì non so se sì c'era il punto vendita che era aperto c'era scritto tre giorni a settimana un giorno era chiuso un giorno era aperto la cosa è stata gestita malissimo adesso Filonzi mi fa una faccia strana però io ce l'ho andata mille volte a Arca Felice ce l'ho andata tante volte e la situazione secondo me dal punto sì pieno di debiti però non è sta secondo me gestita nella giusta maniera grazie consigliere Alancioni consigliere Catani grazie presidente due parole sono perché appunto c'era stato già chiarimento il sindaco ma era per tranquillizzare Vinci perché non c'erano motivi particolarmente strategici se non che in una riunione maggioranza molto democraticamente ognuno ha detto la sua si è individuato che questo tema probabilmente è strategico per la città poi lo stanno dicendo tutti quindi noi abbiamo detto invece di buttare via 200 euro incassare 200 euro che non dice nulla rimaniamo lì sentiamo che succede se possiamo dare un contributo lo diamo se no se la ditta dovesse fallere perché speriamo no io ripenso che non non arriveremo a questo perché la regione non penso che no permetta questo si dovrebbe ripartire con un progetto più importante che non può una regione come la nostra rimanere senza collegamenti aerei tra virgolette perché altrimenti se vogliamo puntare a uno sviluppo non ne parliamo proprio quindi senza particolare abbiamo discusso pensiamo che sia una scelta oculata il sindaco ha la puntualmente rappresentata quindi quindi non ci sono grazie consigliere Catani consigliere Animali scusate io torno solo un attimo sull'intervento della collega Lancioni per chiedere al dottor della Bella per completare l'intervento della Lancioni dal mio punto di vista se il dottor della Bella si ricorda quali sono i beni ancora da liquidare e i creditori ancora da liquidare Arca Felice sì è della Bella chiaramente io non ho dettagli della gestione liquidatoria perché c'è un liquidatore però posso dire che ad oggi allora il bestiame è stato venduto mi pare tutto lo scorso anno tutte le diciamo colture sono state vendute le ultime aste perché poi ne sono state fatte diverse nel corso degli ultimi mesi riguardavano le attrezzazioni le attrezzature quindi gli attrezzi qualcosa relativamente al punto vendita e le ultime attività che sono state fatte quest'estate quindi proprio alla fine riguardano diciamo un'attività negoziale con i creditori erano rimasti credo che quelli creditori di piccola entità alla fine sono stati un po' trattando diciamo chiusi tutti ne erano rimasti un paio credo che sia rimasto uno o due creditori quindi diciamo è questione come tempistica noi però vediamo entro fine anno ma forse anche prima si può riuscire quindi siamo proprio alla fase conclusiva è rimasta una sola banca credo credo questo ecco grazie Otto della Bella non ci sono sì consigliere Pirani devo ritornare su Arca Felice condividendo quello che ha detto la collega delle 5 Stelle cioè Arca Felice è vero che è stata magari come succede a molte società non solo pubbliche anche private gestita probabilmente visti i risultati non in modo ottimale però era un'azienda significativa che aveva anche un contenuto immateriale che per me un'amministrazione soprattutto che diciamo così che subentrava doveva per me mettere in campo la sua capacità gestionale per tentare di conservarla ecco poi dopo invece di metterla subito in liquidazione questa è la mia idea ormai siamo arrivati a questo punto non lasciamo perdere però ecco questa cosa l'ho sempre pensata e la volevo dire insomma ecco grazie consigliere Pirani il sindaco per replica rispondo solo per dire che sarà anche Arca Felice sarà se siete d'accordo oggetto di una verifica che faremo assieme in una commissione ad hoc sempre che la Garofoli la convoqui perché non dipende da me adesso di come è battuta però lo vediamo assieme insomma una sorta di compiti a casa per la Garofoli deve studiare poi allora non ci sono altre prenotazioni quindi chiudo la fase della discussione apro quella delle dichiarazioni di voto eventuali sì consigliere Pirani diciamo la nostra idea è quella di astenerci su questo campo e comunque questa è la nostra idea insomma grazie non ci sono altre sì invece consigliere Coltorti grazie presidente anche noi dichiariamo l'astenzione su questo emendamento non tanto in sé per quello che è stato deciso ma un po' per questa mancanza di coinvolgimento quindi un po' come segnale in questo senso perché se chiediamo delle spiegazioni rispetto a una situazione che sta a capovolta insomma mi sembra normale l'opposizione che lo facciamo quindi il fatto che ci si rimanga male un po' ecco tu no perché ogni volta ogni volta ogni volta il signor il sindaco dice ma ve lo ho già detto prima evidentemente o non capiamo noi o deve prendere in considerazione qualche volta forse non si spiega così chiaramente come crede sicuramente è colpa mia sicuro io dico probabilmente non capiamo noi però c'è il beneficio del dubbio insomma facciamocelo venire entrambi ecco esatto va bene guardi per aiutarla posso dire che i contendenti non si sono presi per i capelli i contendenti quindi è andato tutto assolutamente bene tenga conto che è una valutazione intorno a 200 euro quindi è niente anche perché sfido chiunque a comprare quella quota al valore di messaggio e di testimonianza solo quelli mi pare che però è stato letto c'è scritto nell'emendamento anche la la motivazione solo quella consigliere filonzi se era su indovina chi mancava sia gli occhiali o meno e moro no dicevo mi ricollegavo adesso all'intervento cioè in commissione però non è è vero che noi abbiamo poi apportato questo emendamento però in commissione non è venuta nemmeno fuori una richiesta da parte magari dell'opposizione dire di non uscire dalla dall'erdorica per cui insomma questa è una decisione che abbiamo pieno se noi come maggioranza la proponiamo come emendamento qui uno può sempre tirare fuori ci sono contrario sarei contrario a insomma comunque il valuto nostro è favorevole sia all'emendamento sì sì ma giusto proprio perché non siete contrari siccome in commissione invece noi dovremmo uscire in formità rispetto a quella fatta dal consigliere Pirani no va bene comunque il voto nostro sarà favorevole ovviamente sia all'emendamento che alla pratica grazie consigliere Filonzi consigliere Garofoli allora un attimo solo per per rispondere a coltorti allora in commissione c'è stata illustrata la pratica no abbiamo in maniera egregia è il momento in cui si discute si analizza no quindi giustamente il dottor della Bella ha illustrato la parte tecnica non era il momento politico no poi noi abbiamo fatto in quel momento lì no allora abbiamo fatto poi delle riflessioni tra di noi e siamo giunti a poter far presentare a poter presentare questo emendamento quindi non ci trovo niente non è che c'è stato un tra virgolette passatemi il termine un giochetto non c'è niente di questo ecco è semplicemente in commissione ci hanno illustrato la pratica è stata ascoltata da tutti è una cosa tecnica giustamente l'abbiamo approvata come tecnicismo in base alla normativa era una delle società che andava diciamo poteva essere dismessa valore 200 euro il risorio oltretutto il comune possiede una quota 0,0 quindi non ha nemmeno potere decisionale poi in un'altra sede abbiamo fatto un altro tipo di valutazione tutto qui quindi ecco non c'è niente di strano ecco il luogo preposto era la commissione ma non per prendere una decisione anche perché con l'esperienza passata di 5 anni ho anche visto che in commissione a volte non è che tutti si esprimono perché la sede opportuna giustamente è il consiglio in consiglio comunale ci siamo espressi abbiamo proposto questo emendamento questo per spero che da parte della maggioranza se magari non voleva il sindaco ha risposto ha chiarito io in qualità di presidente della commissione facente parte della maggioranza spero di aver chiarito questo punto e tornando all'emendamento chiaramente voto positivo e quindi il voto di Gisinsieme sarà sì grazie consigliera Garofoli allora le dichiarazioni di voto sono finite quindi procediamo alla votazione allora passiamo con la votazione del primo emendamento poi la pratica nell'eventuale test emendato poi l'immediata esecutività quindi metto in votazione l'emendamento proposto dal sindaco alla pratica iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno la revisione straordinaria delle partecipazioni straordinarie emendamento che prevede la non cessione della partecipazione in airdorica votazione aperta prego votare ce la vedo ecco 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 comunico l'esito alla votazione i consiglieri presenti sono 22 16 sono i voti favorevoli nessun contrario 6 gli astenuti il consiglio comunale approva si sono astenuti i consiglieri santarelli coltorti animali pirani fior del mondo vinci hanno votato in senso favorevole e tutti gli altri mettori in votazione per la pratica iscritta al punto 21 all'ordine del giorno aventa oggetto revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi articolo 24 del decreto legislativo 175 2016 e successive modifiche e integrazioni il testo della delibera così come emendato votazione aperta prego votare lancioni filonzi comunico l'esito alla votazione i consiglieri presenti sono 22 i voti favorevoli sono 17 nessun contrario 5 gli astenuti il consiglio comunale approva si sono astenuti i consiglieri santarelli coltorti animali fior del mondo vinci hanno votato in senso contrario tutti gli altri adesso metto in votazione l'immediata esecutività della delibera si mi sa chiedo scusa infatti mi sono accorto che c'è stato un errore ripetiamo ripetiamo chiedo scusa se mi dice consigliere Pirani chiedo scusa c'è stato un errore quindi ecco quindi ripetiamo la votazione per quanto riguarda il testo della delibera così come emendato infatti mi sembrava una difformità rispetto alla dichiarazione di voto però sì sì allora ripetiamo la votazione prego votare comunico l'esito della votazione i consiglieri presenti sono 22 16 voti favorevoli nessun contrario 6 astenuti il consiglio comunale approva si sono astenuti i consiglieri Santarelli Coltorti Animali Pirani Fior del Mondo Vinci hanno votato in senso favorevole tutti gli altri e adesso metto in votazione l'immediata esecutività della delibera prego votare comunico l'esito della votazione i consiglieri presenti sono 22 i voti favorevoli sono 22 nessun contrario nessun astenuto il consiglio comunale approva ora visto tutto forse abbiamo bisogno di una pausa brevissima che facciamo e facciamo la pausa anche in qualche modo quindi sospendiamo i lavori per una pausa breve ci trasferiamo nella stanza accanto anche perché questa pausa la dobbiamo all'assessore Quaglieri che oggi compie gli anni quindi un attimo per scambiarci gli auguri e poi riprendiamo i lavori chiedo scusa ai presenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti